benvenuto su mondinascosti.it il negozio di fantasy online oggi ti voglio mostrare questa tazza di Unstock con il disegno di Unstock che si chiama Wolf Trio perché te la voglio mostrare di per sé è già bella però ha una particolarità nel momento in cui andiamo a mettere qualcosa di caldo al suo interno si formerà un'ulteriore immagine ora ti mostro e scopriamo insieme il disegno che si va a formare anche questa è una tazza bella capiente per le tue tisane, per la colazione, per una serata di relax e vediamo come si sta formando io vedo la parte retro ovviamente di questa tazza e qua vedo un volto di lupo che si sta formando adesso girerò perché sono curiosa anche di scoprire nella parte davanti che cosa sta per apparire qui vedo un volto di lupo con tutto uno sfondo che sembra quasi una nebbia nella parte posteriore e adesso giro perché sono curiosa di vedere che cosa c'era davanti davanti si è formato questo bellissimo trio ovviamente di lupi con il simbolo e anche con un paesaggio vedi come man mano con il calore si sta formando sempre più in modo netto questo disegno è un bellissimo regalo che ti puoi fare o che puoi fare a qualche tuo amico per sorprenderlo ovviamente durante le sue colazioni puoi trovare questa tazza e molto altro nel mondo del fantasy su www.mondinascosti.it ciao da Stefania